Buon vero, ayer è stato Chauhebs, che ha avuto una riunione con il primo ministro. Ci ha insistito per fare una riunione qui, e il vero che il ministro mi era importante per fare una riunione qui è un luogo, e ci ha assinato con noi, con il staff di rifineria di Gassu Kitsetko. Ci ha assinato con noi, assinato con il primo ministro e con i due consiglieri, il sr. Brizen e il sr. Semeler. E noi discutiamo, parliamo, 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 che ci sta nel futuro, che ci ci sperano di questa situazione che ci sta nella rifineria, tanto per la rifineria mares e anche per la parte del terminal. Nostra, qui ricorda, è molto importante per riazzare il sr. e anche per l'involvimento del RDA. No sr. ti romano, e noi non basta noi mesi di romano, se non ci si vuole riazzare il problema di questo mese, che ci sta nel pensamento, che ci sta in tensione, principalmente per il terminal, e noi ci siamo in due sr. in una rifineria. Tampocco non so sa che ci sta nel seguente passo, non? Informazione grande e concreta, non ci si vuole, che ci sta nel prossimo settemane, che ci sta nel prossimo settemane, e noi ci siamo con l'equipo di Biamas, che ci sono i consiglieri, e con il rappresentante del RDA. La idea sta per riazzare, concretamente, che role del RDA, che ci sta nel futuro della rifineria, e, anche, che ci stiamo aspettando, che ci stiamo a cercare, che ci stiamo vivendo un'incertidumbre più grande. Ma ora, qui, non è più tranquillo, che ci stiamo in messa, e ci stiamo in informazione. Allora, dopo di essere il lavoro di Biamas, con il riedere di sette mesi, noi ho fatto considerare, che informazione della roba è limitata, e non c'erano nessun altro, per insistire per riazzare informazione per il problema di néstri. E, dopo di essere informato, il problema di néstri riazzare più informazioni, e ora, a ci stiamo in conversazione, La nostra informazione è che non ci sia sufficiente informazioni, ma la prossima è la prossima e la prossima è la prossima. speranza per la rifineria, ma ci sono le chance per il nostro pubblico che c'è la rifineria, è un po' piccato, guardando le circostanze, ma per lo che è terminato, c'è una speranza più grande, un valore più grande, una necessità, un motivo più grande per il nostro pubblico. Abbiamo bisogno di avere un spazio, un negozio, ci sono ora di usare fuori e in un corto tempo che ci sono viste per il negozio e ci sono qui, per il lavoro.